No, invece oggi è stato uno sforzo grande perché con uno sforzo minimo su questo campo sicuramente saremmo usciti con le ossa rotte. Invece siamo stati in grado di tenere a bada un avversario a cui se avessimo dato coraggio sicuramente avrebbe sprigionato molte più qualità rispetto a quelle che ha dimostrato oggi. Nelle fasi iniziali ovviamente abbiamo avuto il predominio del gioco e non abbiamo inciso tanto sia perché ovviamente potevamo essere un po' più protagonisti del gioco sia perché gli avversari all'inizio sicuramente hanno molte più energie, poi nel tempo quando si dilatano gli spazi e si continua a giocare come abbiamo fatto noi sicuramente le occasioni possono arrivare molto più facilmente come è stato il caso di oggi. Ho tanti ragazzi bravi che oggi erano fuori, che hanno le qualità per poter essere protagonisti in questa squadra e sono convinto che ci sarà bisogno di tutte le loro qualità per continuare a fare bene al di là di qualche passo falso o di qualche vittoria. È un campionato molto difficile e quindi riuscirà a fare meglio chi sarà forte quando le cose saranno molto complicate. Avremmo potuto fare meglio con tanti interpreti, ovviamente quando si subisce un gol sicuramente c'è la partecipazione di qualche giocatore e noi abbiamo contribuito a far sì che questo gol venisse fuori, è stato un peccato perché potevamo fare meglio però siamo stati bravi a rientrare in partita, a tenere quando c'era da tenere, a giocare quando c'era da giocare e a portare a casa un risultato che volevamo tantissimo. Ho messo un altro giocatore con struttura che aveva gamba per poter prendere il campo che gli avversari ci stavano lasciando e l'avremmo potuto fare meglio però sono contento sia di chi è iniziato che di chi è entrato e quindi complimenti a tutta la squadra. È un ragazzo che ha qualità e le sta dimostrando e sono convinto che nel tempo riuscirà a dimostrarne tutte perché ne ha veramente tante. Sono contento della sua prestazione, sono contento della prestazione di tutti perché da soli difficilmente si riesce a giocare bene se non si ha l'apporto di tutti i compagni e oggi credo che abbiamo dimostrato che siamo un gruppo che ha valore ma soprattutto che siamo una squadra che vuole ogni partita dare il massimo per provare a ottenere il massimo. Noi abbiamo un bel viaggio che ci aspetta invece loro oggi erano tranquilli a casa a riposarsi e su tre giorni sicuramente avere un giorno in più per recuperare non è poco però non è assolutamente un alibi ma abbiamo voglia martedì di fare una grande partita perché c'è bisogno sicuramente di fare una grande partita contro un avversario che ha il vento in poppa e viene da una prestazione superlativa in casa e mi auguro che saremo in grado di poterla fermare.